Noi ci siamo, ci siamo. Tutti aspettavano questa decisione? Da una parte me l'aspettavo, però dico la verità, un po' difficile speranza, ma non c'era sempre. Sì che ho detto comunque che le fosse venute fuori adesso, perché sulle interrogazioni c'erano elementi che non erano mai stati venute fuori da Penisi. Mi sembrava strano, perché c'è questa costa, ci sono queste cose che non sono. Invece, purtroppo, il sole è meno più forte. Perchè loro avevano già potenzioni di archiviarlo. Ecco, ci siamo arrivati, ci siamo arrivati, ci siamo arrivati, ci siamo arrivati. Già quando, quando Merani ha letto questa cosa? Non c'era, non era presente Giacconi, era presente la tua volta quando hanno parlato gli avutati. Ah, ecco, non era presente. No, non era presente. Alla lettura? Come Penisi non era presente alla lettura. Alla lettura non era presente. No, no, non c'era. Perchè so che all'inizio c'era? All'inizio dell'edienza, però non era presente. Domani c'era? Sì, c'era. Però poi non ha sentito la... Non ha sentito la... No, c'era, c'era, non si è messo a sedere su cosa. Ti ha detto niente? No, no, no. No, è più da questa. Ecco, non ti ha detto niente. Ma anche Merani, eh. Io ho chiesto di parlare e mi ha detto no. L'hai richiesta di parlare? Sì, ho chiesto di parlare. Ma quando ha detto che è morto così, ho detto... Allora io volevo chiedere, scusi, ma dietro la schiena che le ho fatte io? Sì. Invece ha detto, dice no. Anche il sì papo voleva parlare e gli ha detto no. Ah, perchè c'era anche il babbo? Sì, era il babbo e la sorella. Non si macelle. Sì. E la sorella? Non si silva. Sì. Vanna è macelle.